Una maxitruffa all'erario, due arresti e un sequestro da 24 milioni di euro all'Università Link Campus, compiuti dalla Guardia di Finanza di Roma su ordine della Procura. I reati contestati sono quelli di indebita compensazione e dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti. Secondo i pubblici ministeri e i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, l'evasione delle somme dovute alle casse dello Stato porta la firma di uno dei vertici dell'Università Privata, Carlo Maria Medaglia, già prorettore alla ricerca e docente di una istituzione universitaria privata, coinvolta anche una sua collaboratrice. Grazie alla Link e a un consorzio a questa collegata, sono accusati di avere garantito l'avvio di falsi progetti di ricerca e sviluppo a oltre 20 società, consentendo a queste ultime l'illecito utilizzo di crediti d'imposta.